Arriva un'altra batosta per la star dei social, lui ha un altro figlio con un'altra donna e nessuno lo sapeva E' guerra.Arriva un'altra batosta per una celebrità del web, una notizia che ha scosso profondamente i suoi follower e l'intero panorama dei social media, un noto influencer ha un altro figlio con una donna sconosciuta fino a pochi giorni fa La rivelazione è stata fatta da una vera e propria star del web, che conta milioni di follower su TikTok e altre piattaforme Questa rivelazione ha scatenato una vera e propria guerra di parole e accuse La notizia ha iniziato a circolare sui social con una velocità sorprendente, lasciando tutti incredoli e generando un vortice di discussioni e polemiche Nessuno avrebbe mai immaginato che questa star dei social, seguita e amata da milioni di persone, potesse nascondere un segreto così grande La scoperta è stata resa pubblica recentemente sui social, aumentando ulteriormente l'interesse e la curiosità dei follower In un periodo già carico di gossip e scandali, questa rivelazione arriva come un fulmine a ciel sereno Pensiamo, ad esempio, a Fedez e Chiara Ferragni, che recentemente hanno riempito i rotocalchi con una serie di eventi drammatici e controversi Dapprima il famoso Pandoro Gate, seguito da voci di separazione e presunte risse con Cristian Jovino, e infine la tumultuosa vita sentimentale di Fedez Questa coppia, una volta considerata il simbolo dell'amore perfetto sui social, sta attraversando una crisi di mezza età che sembra non avere fine Non stupirebbe affatto se una notizia del genere riguardasse proprio Fedez e Ferragni, data la continua esposizione mediatica delle loro vite private La notizia SoC.Tornando alla notizia SoC, la star del web che ha fatto la rivelazione è conosciuta per la sua trasparenza e autenticità nel condividere dettagli della propria vita privata con i suoi follower Con milioni di seguaci su TikTok, questa influencer ha sempre cercato di mantenere un rapporto sincero con il suo pubblico, ma questa volta ha dovuto affrontare una delle situazioni più difficili della sua vita La scoperta è avvenuta in modo del tutto inaspettato, quando l'ex di Anthony, il fidanzato dell'influencer, si è fatta avanti con la scioccante notizia dell'esistenza di un figlio segreto Questa rivelazione ha aperto un vortice di emozioni e reazioni, con il pubblico che si divide tra chi sostiene l'influencer e chi accusa Anthony di inganno La reazione del web è stata immediata e violenta I follower della star sono rimasti scioccati e increduli, e i commenti sotto il suo post di rivelazione sono stati un misto di sostegno, SoC e critiche La star ha spiegato che ha scoperto la verità solo recentemente, e questa rivelazione ha cambiato radicalmente la sua percezione della relazione con Anthony Alla fine, è emerso che la star del web che ha scoperto questa verità sconvolgente è Cara Villan Con oltre 2 milioni di follower su TikTok, Cara è nota per condividere molti aspetti della sua vita privata con i suoi seguaci Questa volta, ha dovuto affrontare una delle situazioni più difficili della sua vita personale in pubblico, rivelando ai suoi follower che il suo fidanzato Anthony ha un figlio con un'altra donna Il web è in fermento, e le notizie su questo scandalo continuano a diffondersi Gli utenti dei social media sono divisi tra chi accusa Anthony di aver tradito la fiducia di Cara e chi cerca di comprendere le sue motivazioni Nel frattempo, Cara continua a condividere aggiornamenti con i suoi follower, cercando di navigare attraverso questa tempesta mediatica Grazie per la visione